Ciò che occorre è un uomo, non occorre la saggezza. Ciò che occorre è un uomo in ispirito e verità, non un paese, non le cose. Ciò che occorre è un uomo, un passo sicuro, e tanto salda la mano che porge, che tutti possano afferrarla e camminare liberi e salvarsi. Carlo Betocchi